Siamo a Politalico di Palermo con le misure distanze faccio il video per i fuochi del quattrocentesimo festino di Santa Rosalia Palermo Vittalorenzo Larrosa, Maurizio e Paolo Larrosa faccio la postazione dei fuochi la farò subito perché poi devo uscire che è giusto ancora devono montare ci saranno un'ora di fuochi un'ora di spettacolo 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 e questo è un lavoro che le mani riprendiamo che a paolo sono in fase di lavorazione da la guccia 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 da fare veloce perché ma c'è tutto qua siete qua e siete qua tutti i mortali e dall'altra parte tutto miro musicale accompagnato con le bombe con i mortali purtroppo devo fare veloce ci sono anche gli artificiali ci sono i mortali 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 di là di là di sotto qua è tutto devono sistemare tutto si spara a mezzanotte si spara a mezzanotte e dall'altra parte è tutto pronto dall'altra parte è tutto pronto qua siamo al fuori tale qua tutti i mortali grazie 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 grazie